dovete dovete andare da un'altra parte dovrete trasferire però questo è poco ma è sicuro ed però il problema è caro il coso che trasferisse tutto quanto il cambio del leader del depese volete farlo trasferire col camion e tutte cose non c'è niente e dove sto qua io non c'ho manchi mobili andrea non sono i miei la casa è arretta a nostri no no allora sulle panni vabbè due tre viaggi infatti si vabbè sì però è che la dovete trovare quello il fatto e vabbè quello quello si 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 è ripreso si è ripresa la live beata lei che si è ripresa povero borghese povero borghese no ma tanto quattro ristoranti lo devo vedere no perché alessandro borghese ha fatto quattro ristoranti a nella nostra città d'origine raga posso fare un annuncio anche se non c'entra niente con borghese annuncia ieri finalmente dopo quattro fottuti mesi e mi hanno chiamato per una proposta di lavoro alleluia dove che io considera allo consegnati a mano a gennaio ma mi chiamavo ieri al conad anche se mi danno tempo determinato gli acciato tanto fa sempre visto sul corrigo ora adesso ora come ora danno contratti 36 mesi a base fosse sei mesi o perché io considera c'ho pure di mezzo il servizio civile quindi anche se ti fanno il contratto a tre mesi accettalo perché poi ti dice se lavori bene hai molte probabilità che te lo rinnovano quindi anche tre mesi sono sempre soldini andrea che poi ho fatto il conto col servizio civile in un anno ci so circa circa 6.000 euro e buttare via non c'è nel senso poi se vado con questo e riesco a mettere bene tutto quanto sotto i soldi pure mica appunto ecco quindi qualsiasi cosa sia andrea giovane noi accetto sempre io accetto tutto tranne il bidello il bidello mi dispiace ma guarda è il lavoro più sicuro tanto con i bambini non devi fare niente se fai il bidello l'unico non voglio farvi dal posto imparare barista da maniere fornatore però veramente esatto abusivo no però a parte scherzi sennò io voglio io voglio tutto il problema è che non mi chiamano il problema è quello anche se gli dico a chiamate non te se fanno senti non ti si filano posso aprire l'audio live? ah sì sì vabbè potrei lasciarlo aprierti pure prima eh non lo so magari erano cose tue private ah no dai tu sì in effetti quando si parla di lavoro è una cosa bella amica no no ci mancherebbe però sai non si sa mai scusate ma ho sentito dei rumori e sono andata a vedere che cos'era e cos'era ah quindi la deodorante sulla lavatrice che sta facendo la centrifuga minchia no sta mappa io la odio l'ho messa io eh grazie è il campanabo e poi avevano risolti sta laggando ma a me mi sta laggando non riesco a giocare è giocabile me l'agra vaffanculo ascolta parola va bene non lo fa come fa laggare a te a me va bene no no veramente a me il problema sono io no non è il oh non mi ha mai laggato che cazzo c'era sto gioco di merda ma che vuole fare sul killer suonare le campane dindon domista devo tornare indietro dell'aggiornamento non me ne frega niente dei driver ma non si può tornare indietro eh ma vuole vuole fare punti ah ma che cazzo ma perché abbiamo beccato noi il trollone di merda però non mi fido eh fate che cazzo ma gioco perché devi rompere il cazzo ma perché devi rompere il cazzo ma perché che pa valle se mi è andato gioccio così vabbè vuole trollare vuole fare il trollone che palle ho uno streamer questo Ma non credo che uno streamer fa sto gioco O forse che ne so, devo pulire la scheda Devo pulire il computer, ma mi sa strano Ma lagga che hai frame bassi O problemi di shattering No, no, va a scatti Scatto, ogni tanto si frizza Come te lo dico No, no, capito, capito A volte sono lunghi, a volte sono corti Eh, devi fare un po' di roba Ambero un bel cazzo, sinceramente Oh, Barbara, c'è il computer più debole del tuo, eh E va benissimo Ma, ecco, ciao Ma tu stai usando GeForce Experience, sì Eh, sì, sotterra Vaffaculo, gioco del cazzo, perché cazzo laghi Eh, ma non ti alza, perché non vuole Eh, ma non ti alza, perché non vuole Allora, mi sta a camperà, però Però comunque sta sotto pallet Ma è recuperando Sì E alza, ove? Anche è malzato Ma ti ha lasciato di nuovo Vuole fare i punti Eh, vuole fare i punti Non posso dire niente in live Vabbè, ma Dove sei andrei A pancia all'aria C'è a pancia all'aria Anche a terra e all'aria Ok Anche a terra e all'aria Eh, no, perché devo consumare un kit medico Sì, ti salva Ma sta vicino a te Eh, so io Mi arzo, mi arzo Eh, su, sono fatti i geni E per forza giù Ma pende, forse, sì, ma pende È come se non carica la mappa È random Non sta a fare neanche un gen Eh, adesso è vinto Non lo fa Sì, ma chiudete il gen Però, sennò La perdiamo davvero Io la sto a cerca Da sto La sto a cerca un Sta giù Il gen Stanno giù Fatene un'altra Fatene un'altra Ormai io dovrei curarmi Eh, anche io, però Oh, ciao Dove sei? Non so, cura Il gen Sta qua, sta qua Fate il gen Fate il gen Ah, sta qua Ok, ho capito Il gen Eh, Momo mi libera da solo Oh, bene, bene Ma ce la fai a liberarti da solo? Eh, sì, perché mi stai camperando Il camper Un muro di a terra di immagine Bastardo I stanno a terra Io sto facendo un gen E giù Eh, lo sentiamo Lo sentiamo Ah, non lo sento Eh, ma sta bene nel kill No, no, ce l'ho io Ah, Eden Eccolo Eh, mentre che è Grazie Sì, però non tutti qua Random del cazzo Ah, è tutti qua Cioè Il random è avvenuto là Vaffanculo Cioè, non posso nemmeno stare là C'è la finestra aperta Io non la voglio perdere Questa partita Eh, che cazzo È una cosa per il principio No, sta chiudendo un gen Aiutatelo Eh, a scoparlo Forse è qua Alla mia destra sta È finita Ok Uscite Perché sta qua No, devo ancora spiccare Sta qua, Eden Non mi lascia Non mi lascia No, no, uscite Uscite Mi dispiace Però fate Sì, però uscite Mi dispiace Poi mettere non uscite E che vedo che state ancora curate Sto cercando l'uscita Ecco, ecco, ecco L'ho trovata La metto a aprirla La sto prendo Eh, ma io non so dov'è Ecco Da dove sei uscito tu? Io non sono uscito Ah Non tu, il killer Tengo a salvare C'è il noe No, 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 vai C'è il noe Tu uscite Io lo scappo Sì, sì, esci C'è il noe Non ti edesci perché è arrivato all'improvviso davanti a me No, no, non so che cazzo sta fa' Io sono uscito Se passa la voglia Sì, se lo so uscito Sì, sì, anche l'altro è uscito Se passa la voglia a A giocare con un gioco che te lagga Veramente Se oggi c'avevo Un po' di voglia Mi è passato totalmente Perché sto laggando Io non so che fai Noo Che gli hai scritto? Non ho Cosa è uscito La legge del mio pelo del culo Noo 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 Ora sta litigando col killer Facci Ma sì Ce li ha da tutti Guarda un po' Ma mi sa che è russo O è russo o è ucraino No war No war No Ma i stupid mob game Ah vabbè Dai ciao Ma quando hai il colloquio Domani Ah domani Ah ne ho chiamato ieri Ce l'ho Me l'hanno dato per venerdì Alle nove Qualcosa di mattina Devo veramente spero che mi piglia Io spero che mi piglia Ma sì Che poi manca di È la risoluzione È la risoluzione dello schermo Troppo elevata Troppo alta No C'è la 90% Su 100% Quindi manco quella Potrebbe essere È strano però Ma no perché Ma a me il computer È molto meno potente Del tuo E non Ma infatti No Non Non di niente Perché anche tu Ce l'hai potente Però non capisco perché A me laga E te No Infatti No io Mi dispiace Ma gioco così Non voglio farvele perdere Perché se no Come faccio di sistema Di aggiornamenti Allora io intanto Chiudo la live Perché comunque Sì sì Sò stancato anche Oggi alle 725 Ci rivecchiamo domani Raghi Ciao A tutti Buona serata A tutti A domani Buona serata Tutto Andiamo con me Chiuso A punto Già non mi sento Ok Ma Perché mi fa sto problema E voglio capir Mo lo Sì sì